Sono Marco, faccio l'ingegnere in popà. I miei interessi sono molto incentrati sulla moda e sullo sport. La mia ispirazione per le customizzazioni nasce un po' da tutto quello che mi circonda, la famiglia, gli oggetti, la natura. Nel mio progetto la cosa fondamentale è stato non toccare quelli che secondo me sono i tre punti cardini dello schermo indicato, il faro anteriore, il faro posteriore e il serbatoio. È tutto incentrato in quello che è nella parte posteriore della moto, quindi in pochi secondi posso trasformare la moto da biposta a monoposto. Per me la personalizzazione di una moto è rendere un oggetto qualcosa di più bella, mia figlia.